Ciao, eccoci qua! Apponello, Deanna, Federica, Laura Noi siamo pronti per la lezione di super Ok ragazzi, allora cerchiamo di fare un ripasso in modo che sabato siamo pronti per l'immersione di Cala Gadire nel percorso archeologico Vi illustro adesso l'attrezzatura subacquea Partiamo dalla maschera La maschera è la nostra finestra sul mondo sommerso Altra componente dell'attrezzatura è lo snorkeling più comunemente chiamato boccaglio Il Gav, ovvero giubbetto ad assetto variabile non è altro che un monosacco all'interno del quale noi mettiamo aria per poter stare in assetto neutro durante le nostre immersioni È stata la nostra prima immersione Che esperienza emozionante! E ora andiamo a mettere in pratica gli insegnamenti a Cala Gadir una delle baie più suggestive dell'isola di Pantelleria Ok, io vado! Per poterci immergere in sicurezza quando andiamo ad affrontare le nostre immersioni con il sistema ARA autorespiratore ad aria composto dal gruppo Gav, erogatore bombola ed essere quindi dei subacquei sempre sicuri dobbiamo rispettare delle regole Sono dieci piccole regole La più importante è quella di respirare sempre, continuamente e lentamente e rispettare quindi il proprio ritmo respiratorio quando ci troviamo sott'acqua Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!